Qua ci sono tutti e due i silos indicati nell'immagine E invece c'è l'altro, c'è il 2 con i due box I rossi indicano che è occupato? I rossi indicano che è occupato e queste sono quelle disabilitate perché magari sono disabilitate Come manutenzione secondo te ci vuole un sistema che ha disegno di tanta manutenzione? Ah lui ok Però viste così dire che sono due ruote che girano Non mi sembra un problema Magari una volta all'anno da fare l'intrattore Niente di quello ... ... ... ... ... No, no, no.